Ciao a tutti, volevo solamente dirvi che farò delle modifiche al canale, toglierò i gameplay e lascerò solo i video visto che non vanno molto, li toglierò e lascerò solamente i video fatti, dedicati e i miei video e niente, se volete che faccia un gameplay ditemelo su The Sims 4, The Sims 2, The Sims 1, non so se riesco a installarlo però ce l'ho e il 3 ce l'ho ma non lo installo neanche morta e Pokémon Rubino, il primo, quello per GBA, per l'advance e nient'altro direi ok, niente, se avete richieste fatemelo e cercherò di accontentarvi ok, ciao, ciao ciao